bella a tutti raga qui anche vi parla ed eccomi qui in questo nuovo video questo è un video diciamo un po' speciale perché volevo parlarvi di un evento che c'è stato in questi giorni ovvero l'Etna Comics di cui vi volevo fare vedere diciamo delle sequenze di video immagini cose del genere e dove abbiamo incontrato anche quelli di parliamo di videogiochi con cui abbiamo fatto anche una foto che più avanti vedrete e quindi iniziamo subito all'inizio diciamo girovaggiamo per la fiera e quindi presentiamo tutte le quattro le persone che ci sono allora praticamente qui il professore il professore sì quello là tutto vabbè professore qui andrea un altro ragazzo che è venuto con noi in questa avventura e poi infine a destra sepol e a sinistra io poi qui c'è la parte c'era una stanza dedicata alla parte dei tornei praticamente si svolgevano tornei di naruto fifa black ops 2 eccetera comunque scusate per la qualità il video però l'ho registrato da un telefono quindi non ci posso fare niente e poi infine qui c'era un terzo piano dedicato a diciamo giochi di tavolo e scacchi e tutte queste cose qui che diciamo a noi poco interessava però comunque abbiamo trovato un gioco abbastanza carino che a fine video troverete un gioco di tavolo molto carino poi dopo aver fatto questo siamo usciti fuori e abbiamo incontrato i ragazzi di parliamo di videogiochi come vedete tutti i vestiti con la maglietta nera e il loro stemma di parliamo di videogiochi e li abbiamo seguiti fino a uno spiazzale dopodichè hanno fatto tutte le foto qui diciamo che eravamo abbastanza emozionati e poi qui sono riuscito a chiamare avoghi e a chiedergli se potevamo fare una foto e lui mi ha detto io ci si stava spostando solo in un posto qui vedete Lino parlare al telefono mentre noi continuiamo a seguire ed entriamo in questo spiazzale dove c'era un palco e dopo c'è stato un concerto ed ecco qui la foto io a destra professore a sinistra e poi tutti gli altri poi ora vi faccio vedere il video del gioco che vi ho detto qualche minuto prima che praticamente era un gioco altamente... era bellissimo proprio quindi vi lascio un gustaviglia e ci vediamo dopo ciao 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 siamo arrivati alla fine di questo video e come avete visto diciamo il gioco era bello e quindi niente è stata un'avventura davvero fantastica vi consiglio di andare il prossimo anno anche voi ad EtnaComics e niente vi saluto Lasciate un bel like e un commento Bella